Ciao a tutti, mi chiamo Teodora e insegno canto barocco. Purtroppo quest'anno non possiamo presentarvi i nostri corsi del solito open day di inizio anno, per cui vi presenterò il canto barocco qua online. Ma magari vi state chiedendo che cosa si intende con canto barocco. Ecco, con questo nome si intendono i cantanti che desiderano approfondire la prassi esecutiva e il repertorio che va dall'inizio del Rinascimento fino al barocco maturo. Si tratta di una maniera leggermente diversa di cantare rispetto al canto lirico, ma soprattutto quello che secondo me è più affiscinante, il repertorio che viene studiato viene affrontato sempre a diretto contatto con le fonti originali, ovviamente poi trascritte, e si tratta proprio di un viaggio e pratico nella storia della musica. Per cui magari i periodi di cui avete soltanto sentito parlare in una maniera anche un po' noiosa, all'improvviso prendono vita ed è proprio come fare un bellissimo viaggio nel tempo.